Ciao amici! Oggi mi è venuto un dubbio. Mi sono chiesta ma i miei amici lo sanno che io non mi occupo solo di frullati di tofu e tisane di zenzero o no? Certo cosa mangiavo è importante ma non basta solo quello per vivere bene. Conta anche cosa pensiamo, come elaboriamo le emozioni, le relazioni, cosa facciamo per noi stessi, il nostro cuore, la nostra mente. Per questo tempo fa avevo pubblicato una serie di video sulla crescita personale con un mio taglio un po' particolare come sempre. Vi consiglio di guardarli tutti un po' alla volta. Sono tutti raggruppati in questa preziosissima playlist. Da oggi voglio riprendere a parlare di questi temi perché dico sempre il mio claim vivi consapevole vivi meglio e intendo anche questo avere cura di sé e volersi bene. Sì facile a dirsi ma come si fa in mezzo a questa vita che non ti lascia neanche respirare? Non è facile né a dirsi né a farsi ce l'ho molto chiaro. Che siate all'inizio di questo cammino o dei veterani della crescita personale oggi vediamo sette semplici mosse per volersi davvero bene. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E mi raccomando seguite il video fino in fondo perché alla fine ci sarà un regalino per tutti voi per volersi molto bene. Uno farlo in modo sano. Il primo passo per volersi bene è farsi del bene. Non è tempo sprecato o tempo tolto agli altri. Se stiamo bene con noi stessi siamo più positivi e facciamo stare bene anche gli altri intorno a noi. Un po' di sano egoismo ogni tanto porta a essere meno egoisti in generale perché offriamo agli altri la versione migliore di noi stessi non quella con un diavolo per capello arrabbiata depressa delusa che si lamenta sempre. Aiuto sono io quella. non sei sola tranquilla ovviamente bisogna farsi del bene bene non facendosi del male. E come si fa? Due meditazione. Questo è il metodo più facile e veloce di volersi bene. Non è una cosa da fissati dell'oriente o da figli dei fiori ma uno strumento utile a tutti per stare subito meglio. Aumenta l'autostima il controllo di sé contrasta i pensieri negativi e ricarica di energia positiva. Se non sapete come fare meditazione posso guidarvi io con la mia voce. Ho tanti anni di pratica e ho condiviso una meditazione non troppo complicata e non troppo lunga nell'area riservata agli abbonati al canale. Se volete ascoltarla è semplice abbonatevi al canale andate nella tab community e praticate meditazione insieme a me ogni volta che volete. Tre. Sì il migliore amico di te stesso. Sarebbe bello avere sempre un buon amico che ci sostiene con parole incoraggianti di supporto e fa il tifo per noi. Meraviglioso vero? E quando non c'è lo diventiamo noi. Anche la scienza ha stabilito che il dialogo interiore non equivale a essere matti anzi può essere utile. Parliamo noi stessi come lo farebbe il nostro amico o amica del cuore nei momenti di difficoltà. Sicuramente è meglio incoraggiarsi che criticarsi o abbattersi. Quattro. Dire di no. Imparare a dire di no nel momento giusto è uno degli strumenti più efficaci per stare bene subito. Se qualcosa ci fa stare male è giusto dire di no. Se ci sentiamo sopraffatti e abbiamo bisogno di staccare è giusto dire di no. Ricordatevi che dire di no è più difficile nell'immediato ma rende la vita molto più facile dopo. Ho già fatto un video sul potere del sì e del no. Lo trovate qui. Certo non è sempre possibile dire di no e in questo caso vi sarà utile il mio prossimo consiglio. Ma prima di vederlo iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per seguire tutte le novità e abbonatevi per sostenere il lavoro del canale e accedere a contenuti esclusivi. 5. Chiedere aiuto. Quando ci sentiamo sopraffatti o siamo in difficoltà chiedere aiuto alle persone che ci vogliono bene è un segno di forza. Volevi dire di debolezza forse? Di forza. Volevo proprio dire di forza. Ricordate sempre che chi ci vuole bene ha piacere di aiutarci se può farlo. Si sente anche apprezzato da noi e a sua volta apprezza se ci dimostriamo vulnerabili senza fare le vittime e solo chi è forte è capace di farlo. 6. Lista buona. Fate una lista delle cose buone che vi piace fare e vi fanno stare bene. Questa lista va tirata fuori al momento giusto quando sentite che è un momento particolare e avete bisogno di idee positive per ricaricarvi un po'. 7. Lista cattiva. E adesso fate una lista delle cose che non vi piace fare, che vi fanno stare male e vi fanno male, ma in cui cadete un po' troppo spesso o vi dimenticate di evitarle. Così le avete lì davanti agli occhi e vi ricordate che non sono per voi. Ed ecco il mio regalino. Per facilitarvi la vita ho preparato lo schema con tutti questi consigli e le due liste già pronte da compilare, così non ci sono scuse per nessuno. Lo potete scaricare tutti gratuitamente, lo trovate nel primo link in descrizione sotto questo video. Ora condividete con i vostri amici queste 7 strategie e noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Lì davanti agli occhi. Più piccolo.